Questo cantiere che abbiamo sistemato con Alessandro Bellio ci consente di ripuntare il terreno, quindi rialzarlo creando delle fessure dove aria e acqua possono penetrare ridando struttura e davanti al trattore la macchina pre-potatrice che prepara il vigneto per la potatura a mano. Il cantiere è unico e quindi, stesso passaggio, due operazioni contemporanee. Vedete come la macchina pre-potatrice, stralciando gli stralci che oramai hanno già prodotto nell'annata precedente. Vediamo come il ripuntatore muove il terreno. I dischi che tagliano un ripuntatore immediatamente dietro che è circa 30-40 cm profondo che taglia il terreno, lo alza, fa sì che aria, acqua e radici possano ritrovare il loro ambiente migliore per sviluppare e il rullo dietro che riallinea e sistema il terreno. Questo è il risultato.